siamo nell'antica casbeno via milazzo la zona storica sullo sfondo c'è la chiesa dralli ora utilizzata dagli ortodossi per le loro cerimonie qui davanti protetta da un cancello c'è invece la struttura dell'antico lavatoio utilizzato nel quartiere di sicuro fino agli anni della guerra attualmente la struttura resta come un segno della laboriosità degli abitanti e fra poco in accordo con l'amministrazione saranno loro stessi a riportare ordine in questa selva di verde di bottiglie abbandonate che in questi anni si sono accumulate tra queste mura e in mezzo a questo cancello